Forchelli ha sentito? Sono qua, sono qua. Era un ascoltatore, presidente dell'osservatorio Asia, a proposito di gaglioffi, dice questo ascoltatore, che fine ha fatto il presidente dell'osservatorio Asia. Sono qua, sono qua. Qua dove? Sono a Monaco, sono a Monaco di Baviera. Ah, a Monaco di Baviera, a Monaco di Baviera. Dov'è? Dov'è quell'ascoltatore lì? Da dove chiama? Non lo so, non lo so. Ha lasciato un messaggio in segreteria. Cosa vuol fare un tre round alle 6.35 del mattino? Non lo so da dove chiama. Se lo faccia dire. E poi cosa succede dopo? Ah, che penso io. Ma queste cose che si dicono. Prima si fanno e poi... Ah, ecco. Prima si sistema tutto e poi... Se te lo dico, che cosa? Allora, allora, Alberto Forchelli oggi è subito innervosito dall'ascoltatore che gli dà del gaglioffo. Ma perché il gaglioffo? Poi, insomma, il gaglioffo è dura, eh, Forchelli. Di prima mattina farsi dare del gaglioffo non è male. Che brutta mattina, ma che mi sono svegliato a fare, anche te, Dio, buono. Prima mattina, sei e mezzo, sono ancora a lavorare americano, mi devo prendere le offese, subito così. Che brutto modo di esistiare. E vabbè, vabbè, adesso rimediamo, rimediamo. E ce l'avevamo lì in caldo, Forchelli, è scomparso tre settimane e allora ce l'avevamo lì. Appena si presenta glielo piazziamo lì, così lo mettiamo di buon umore, subito. Allora, allora, bene. Allora, il cazzo è di quelli forti, no? Li gresti come sindona, o comunque sai, ricorda... Ma no, non lo so, però, è che vedi, voglio dire, questo qui sono... Ma quando sono io che chiacchierato. Vito, non è che sia una roba... Cioè, è poi entrato anche nel salotto buono di Mediobanca, eh, ma lì poi bisogna vedere. Quindi attenzione alle frequentazioni, attenzione a bere il caffè con... Beh, sì, un altro fulminato dello Stato deve stare attento, capito? Non è che sia venuto fuori, per gli addetti ai lavori, non è che sia stato un fulmine a tel sereno, capito? Sì, sì. Perché ha avuto mille, palazzinaro, sti soldi che venivano su, crescevano sugli alberi, si legavano i cani con le salsicce, sì, non è una roba... Cos'è questa? Si legavano i cani con le salsicce, non l'ho capito. Ah, sì, beh, nei periodi d'oro, l'Igresti è tutto l'uomo, l'Italia, capito? Però, insomma, sti soldi, sti palazzi, sti concessioni, non è una roba che gli addetti ai lavori, non si ponessero dei problemi. Insomma, non si può scendere dal pero, ecco, diciamo così. No, hai da dire, un altro funzionario dello Stato, sta molto attento a chi frequenta, sta molto attento alla propria prodotta, non si mette in condizioni di farsi telefonare e dire, cara, ok, voglio dire, è un altro modo di concepire il servizio dello Stato. Ah, no, ma è chiaro. Però, insomma, su questa vicizia, Silvia Brasca, si parla molto. Al servizio dello Stato, un grande futuro politico, con certe frequentazioni, secondo me. Ah, ecco, appunto, cioè basta... Questo, secondo me, perché fanno degli screening e viene fuori, insomma, una frequentazione unusual, capito? Unusual. Non da etichetta, capito? Non da etichetta, hai capito? 2.000 euro di ICI e quell'altra sia lì a fare il braccio di ferro, non so con chi, però, capito? Non da etichetta, io ieri ce l'avevo in tv, la IDEM, ci ho parlato e diceva, insomma, io sono stata cacciata, sì, per mille euro, mille euro di fatto. Ma Letta come la gestirà questa cosa? Secondo lei, Letta come la vede? Letta sente un po' gli umori, no, beh, se fosse per Letta lavorebbe già fuori dai coglioni, cioè, sono cose che disturba uno come Letta, capito? Queste cose qui sono robe che soffre, gli strappi, testa da vecchio democristiano, gli strappi, se fosse per Letta lavorebbe già fuori in punta di piedi, ecco. Beh, insomma, dai coglioni, in punta di piedi sono due cose un po' diverse, prima diceva che lavorebbe già fuori dai coglioni, però in punta di piedi. 24 mattino E' un piccolo cabotaggio per un paese che invece sta andando rapidamente a picco. Ah, ecco, beh, sempre, sempre una punta di ottimismo. No, io vi devo salutare, ma Forchelli non sei offeso per il gaglioffo, dai, chiamiamo un po' quell'ascoltatore lì, vogliamo capire. Ma no, ma me ne dico di tutti i colori. Ah, beh, c'è neanche di peggio. Sì, adesso capito, devo tornare a casa, mi ne erano un viadotto quando torna a casa, quel che ho detto oggi, si dona l'Igretti. No! Chissà se arriva a casa. No, ma... Troverò un blocco al Brennero, eh? No, ma perché? Chi la deve far saltare in aria? No, 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 no. Ah, non vi è pericoloso, si sa. No, 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 non diciamo così, assolutamente, buon viaggio, tornerà a casa tranquillamente. Grazie ad Alberto Forchelli, grazie a Silvia Brasca, il TG della Sette, ci sentiamo presto, è tempo di giornale radio. Faccio il tassista. Saluto anche con noi due volte questa settimana, dobbiamo recuperare Albertone Forchielli, buongiorno Forchielli, come va? Buongiorno, buongiorno. Dove si trova nel suo peregrinare? No, sono a casa, Imola. A casa, oh, casa Italia. Ha sentito allora le balls of fire, balls of steel? Ah, Letta deve stare, con quelle palle di ferro, deve stare molto attento ai magneti e all'alta tensione. Se no ci rimane attaccato come quello di Goldfinger sul film di 007 che aveva la mandibola di ferro. Ah, già è vero, sì, il mitico. Poi, oh, ragazzi, se gli girano le palle di ferro in Parlamento, si narra già di politici che stiano comprando i tappi per le orecchie? Beh, abbastanza, sì, perché girano le balle. Ma qua abbiamo uno che con il cielo discutevano d'acciaio, quindi le palle d'acciaio di Letta, questo è. Vabbè, Forchieri, dobbiamo aggiungere qualcosa su questo capitolo, possiamo passare oltre. Beh, sai, adesso, secondo me, si dice anche che Louis Vuitton, dopo il preservativo, si metta a produrre tappi per le orecchie perché avrebbe un grande potenziale in questo settore. Del resto, se lui ha le palle d'acciaio, gli italiani ce le hanno di titania a sopportarlo, eh? Dice, dice. Voglio dire, andiamo a sodo. Adesso Salvini ha dato una carotatura istituzionale. Io invece voglio dipingere le conseguenze, capito? Le conseguenze popolazioni, ha visto il 2000, il paese non ha fatto nulla per adeguarsi a un mondo che è completamente cambiato. Capito, Forchieri, però. Io credo che l'ignoranza, il basso senso civico dei italiani è un male che abbiamo in comune. È come un parente scemo, ci tocca sopportarlo. No! Io prima di prendere... Dopo ti criticano, ti criticano dopo, Forchieri. Cioè, che me frega a me tanto. Capito? Non so neanche se arriva l'Italia in giugno, ma che facciano, capito? Ormai ha 60 anni. Così, mi fanno. Cioè, cosa fanno? Guarda, non ho mai versato un contributo. Guarda, io fin da ragazzo non ho mai versato una lira di pensione perché sapevo che non l'avrei mai vista. Quindi non ho mai pagato un contributo. Non vivo in Italia, che cos'è mi faranno? Ogni tanto che... È un po' così. È un po' così, nel senso, sposo la linea Salvini su questa vicenda dell'Imu. Forchieri, non so, non voglio neanche più parlare dell'Imu perché è un'altra... Beh, sì, è stata veramente... Ma prima sono venuti, adesso poi sono venuti fuori questa nuova tassa, la Juke, che sembra il nuovo modello della Nissan. Però che il paese si sia fermato per 8-9 mesi per discutere su questo, vi dovrebbero essere competitivi sul mercato internazionale. Sul paese Forchieri, sul paese ha scritto... Non è che... Capisco che i nostri politici non vanno all'estero, non si rendono conto del grado di arretratezza a cui siamo relegati. Nei test Pisa scolastici siamo numero 25 sui top 25 paesi dell'Ocse. Ma, capito, basterebbe andare a Porretta a capire quanto si è anche a tutti in basso, però... Cos'è Porretta? Dov'è Porretta? Porretta è una città in provincia di Bologna, ci sono le terme. Voglio dire che basterebbe andare a Porretta a vedere come si è messi, però sono lì che discutono su... Ogni giorno si inventano nuovi nomi di tasse, acconti, coperture, discutono su 50 lire, invece ci sono dei problemi enormi. O anche, voglio dire, che si muoia, che si va dalle elezioni su proposte importanti, coraggiose. Io sono sempre stato un fautore della patrimoniale. Allora, per concludere, Forchielli ci salverà il PD? Stasera c'è il confronto tra i candidati, eh? Su Sky. Ah, guardi, secondo me, Renzi, Cuperlli, Civatti, hanno detto tante di quelle che ha fatto, che per uscire dalla merda in cui si sono impantanate devono montare le termiche, sperando di averle ridotte. Se lei spera che da quei tre lì venga fuori l'uomo del futuro, allora continuo a sperare lì. Ma l'altra volta hai detto che Renzi era il meno peggio? Sì, ho capito, se devo votare, capito, alla fine chi voto, capito? Ovviamente, Cuperlli è figlio di un sistema che ha fallito 500 volte, capito? Ormai non è credibile un sistema. Tra Renzi e Civatti comunque inculati, delle due, Renzi comunque sembra avere un attimo più di piglio. Poi, secondo me, uno showman non è un uomo di grande sostanza, però non ho nessuna fiducia che sappiano abbiano la forza. Per me non mi aspetto niente, anzi, delle due guardi, delle due guardalino, sarei anche contento di avere un centrodestra sobrio moderato, senza mascheroni da oba a oba, o retti lì dall'ultima ora, capito? Sarebbe anche ora che emergesse un centrodestra, naturalmente la borghesia italiana è abbastanza traciona, perché è rimasto poco, dopo il fascismo e la fuga del re è rimasto poco. Però, delle due quasi mi auspico che dalla caduta di questo essere qui possa nascere un centrodestra civile. Un qualcosa che dia speranza a centrodestra. Va bene, vi devo salutare, sono di fretta, Forchieri Salvini, grazie, alla prossima! Io mi auguro che Fassina abbia lucidato col sito il busto di Stalin, la sede. Ha detto, ha addirittura! Però, capito? Ma c'hanno il busto... È stata una roba trasparente, è inutile nascondere. Ma c'ha il busto di Stalin, secondo te, della sede? Sicuramente. Ma chi, Fassina, lo lucida? Sì, Fassina, sì, lo tengo lì. Io penso che l'abbiano proprio illustrato, capito? Per l'arrivo di Berlusconi, l'ha fatto vedere. Sì, dopo quando è andato via, poi hanno chiamato quelli della USA a desinfestare tutto, però, capito? Però l'hanno fatto, vabbè, sotto la foto di Che Guevara, pare, si siano visti, Berlusconi e Renzi. Chissà cosa avrà pensato Berlusconi, sotto la foto... No, lo voglio bene, lo sede. Certo, certo. Allora, allora, c'è da dire che anche Sacco Manni vuole bene un po' a tutti. L'ultima volta, caro Alberto, hai detto che lo avresti messo dove? A dare il bigliettino fuori dai CAF, per capire. Sì, no, adesso io c'ho un dilemma. Aiutami anche tu, Aline. Ecco. Io devo cambiargli nome. Non so se chiamarlo Danno Manni o Sacco Danni. Sacco Danni, Sacco Danni. Hanno fatto uscire sto vademecum per pagare la minima. Altro che vademecum. Vade affanculum, capito? C'è la gente che è impassita. Più o meno è quello che pensano molti italiani in questo momento. Sì, voglio dire, capito? Il vademecum. Ed è una brava persona, Sacco Manni. Sacco Manni. Ha vissuto sempre nell'ambiente di Banca Italia, l'hanno buttato in mezzo alla mischia. Poveretto, è distrutto. C'è una faccia, c'è una papagorgia che sembra il varanno delle Galapagos ormai, capito? Deve fare un lifting. Ma tu, Silvia, hai mai visto un varanno delle Galapagos? No, anche il varanno delle Comodos. Ecco sì, il varanno. Poveretto, sei già perso 10 anni di vita. No, ma vi devo dire questo. Vi devo, Sacco, Firenze si riferiva a Renzi, a Dorian Gray. È tornato Beppe Grillo. Alberto, un parere su Beppe Grillo. Stai attento che quelli del Movimento 5 Stelle ti guardano. No, ma di fatti voi siete tutti preoccupati dei cinesi con me. Il mio problema sono i grillini. C'è una roba, mi torturano su Twitter. Il mio problema è che non ho paura dei cinesi, ho paura dei grillini. Quelli sui social sono cattivi, eh? Sì, l'ho già detto altre volte, è un inconcludente. Alla fine anche Renzi deve fare un accordo con Silvio Tauro, Mignotauro, perché tanto è l'unica persona con cui si possa fare un accordo. Perché a Grillo non fa bene niente. No, scusa, mi sono perso con chi deve fare un accordo? Beh, Silvio Tauro, Mignotauro. E chi c'è con cui fare l'accordo? L'unica persona seria in Italia ormai è lui. Siccome poi c'è un grande detto nel mondo, it takes you to dance, per ballare bisogna essere in due, l'unico con cui ballare... È Silvio Tauro. È Silvio Tauro, capito? È inutile che si stia a dire... Che fa lì, ma... No, le preferenze, le preferenze, le preferenze. Non ci sta lui, capito? Per cui, capito, se vogliamo incominciare un percorso di riforma elettorale, basta, capito? È inutile che si stia a dire... No, voglio le preferenze, voglio le preferenze. Non ci sta. Non ci sta. Ha fatto le sue concessioni. Non ci sta. Non ci sta. Per cui faremo le preferenze. Quando lui... Ha concesso il doppio tour. Quando lui andrà, non so, all'Asinaro d'Antigua, non lo so. Dopo faremo le preferenze. Ma intanto andiamo avanti, capito? Silvio Tauro, che fa rima con un'altra cosa. No, questa veramente... Non so da dove ti esce. Beh, Silvio Tauro è tutto l'orgoglio italico, capito? Dopo il debacle di Hollande, capito? Che andava nell'appartamento di un pregiudicato per non andare in Camporella al Boa de Boulogne, capito? Allora a questo punto Silvio Tauro acquisisce anche la sua dignità, capito? Effettivamente un po' è così. Però, cara Silvia Brasca, ti voglio far sentire un altro Beppe Grillo sui giornalisti, no? Uno della categoria più amata. In certe zone siamo soggetti... Se anche andare con Alfano uno capita che caschi nel fuoco incrociato, capito? Indipendentemente dal fatto che Gentile se ne va a persona o meno che io non conosco, capito? Però il bacino è quello... Noto per aver chiesto in passato il premio Nobel per la pace per Berlusconi, Antonio Gentile. Questa cosa fa cambiare il giudizio? Caro Alberto? Voi, anche poveretti. Non depone bene, ma d'altro canto Silvio Tauro, Mignotauro, aveva l'ansia di prestazioni, aveva l'ansia di non farcela senza Viagra, quindi a ognuno le sue preoccupazioni. Quindi si tira su rusco e brusco. Cosa c'entra? Adesso è partita questa nuova cosa, Silvio Tauro, Mignotauro? Vabbè, lo chiama così Giglioli. No, Berlusconi... Del resto Berlusconi è roba da WWF, ha detto che sono l'ultimo leader elettrico con senso popolare, un uccello in via d'estinzione. Vabbè, quindi lo proteggiamo con il WWF. Giglioli, vedi? Un uccello in via d'estinzione. Va bene, non voglio approfondire questa. No, la domanda che io voglio fare però è... C'è caso che Renzi possa portare a casa qualcosa sul deficit e poi dopo saccheggerà la Cassa Depositi e Prestiti. Saccheggerà addirittura? Sì, la Cassa Depositi e Prestiti deve mettere delle teste di legno lì e poi porta a casa. C'è gente che quando si pettina si ferisce con le schegge. Alla Cassa Depositi e Prestiti? Sì, via da una saccheggiata, secondo me che ci rimane... Però, cosa vuoi dire? Sì, la foto di governo sembra la foto della quinta liceo, col prezide, il bidello e il professore. Ah, ecco, cioè molto esperti. Però c'è poco da fare, siamo dei cretini gestiti da bambini. No, che cretini che? Gli italiani? Certo. Mamma mia, no! E' un popolo antropologicamente regredito. Italiani, reagite! Qua c'è Forchielli che sta dicendo che siamo un popolo antropologicamente regredito. Sì, sì, basta vedere le foto della grande guerra, le foto dell'altra Italia. Cretini. Il popolo è ricretinito, l'italiano. Siamo ricretini. Siamo mezzo ricretinito. E vabbè, o che dobbiamo fare? Va bene, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Abbiamo vinto l'Oscar con la grande bellezza, tra poco. 24 mattino Capito cosa c'è Forchielli adesso? Cosa c'è di male nel fatto che Renzi e la sua squadra siano giovani, siano dinamici, siano vogliosi? Cosa c'è che non va? Sono inesperti? Vanno a Berlino e li guardano come la scolaresca in gita? Beh, intanto c'è un problema di spending review, perché non è vero che il governo è il più piccolo, il più ristretto dai tempi di De Gasperi, perché per ogni ministro ci vuole un accompagnatore che gli porti l'ascensore. Attivittura. No, ma a parte le gag, niente. Ho fatto questa battuta, sembra un governo un po' inesperto, molta gente gli ha detto di no, però alla fine poi tifo per lui, al di là dello scherzo, perché se non ce la fa lui, siamo cotti. Siamo cotti. Quindi voglio dire, al di là delle gag, in effetti c'è una certa aspettativa.